ciao ragazzi nuovo video di pesca oggi è tanto che ci manco in questo spot siamo in provincia di salerno e ci stiamo dirigendo alla foce di un fiume l'obiettivo di oggi è il pesce serra appena arrivati qui all'imboccatura anche all'interno del fiume abbiamo visto delle cacciate di piccoli pesce serra ora ci spostiamo verso la foce e seguitemi in questo video vediamo come andrà questa pescata andiamo ciao siamo giunti al lato esterno della foce sono già altri pescatori quindi si vede che in questi giorni sta girando qualcosa vediamo come andrà questo è lo spot ok a tutti i secondi Grazie a tutti. Proviamo con esche di superficie in questa prima parte della nostra pescata. Dopo qualche lipless metto qualche needle. Grazie a tutti. 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 Bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.